La categoria senior è Avellino! Dopo aver vinto la fase regionale che si è svolta a fine settembre al CFS di Atripalda, quali i migliori muratori campani realizzando il manufatto, ovvero un pilasso in forma elicoidale nel minor tempo possibile, sabato scorso si sono aggiudicati il titolo di campioni senior nella finale nazionale della gara di arte muraria Ediltrofi 2023. L'evento, che è stato organizzato dal 4MEDIL e che si è tenuto a Bari all'interno del SAIE 2023, ha avuto come tema l'arredo urbano con la realizzazione di un tavolo con piedini mattoni. Innovazione, formazione e sicurezza, questi valori alla base del concorso che ha portato in Puglia. 19 scuole provenienti da tutta Italia che hanno realizzato manufatti in muratura dopo aver superato le rispettive selezioni regionali. Accompagnati e sostenuti dal Centro per la Formazione e Sicurezza in Edilizia di Atripalda e dal Lance Avellino, papà Fiorentino e Angelo Sellitto, figlio di Prato La Serra, non si sono risparmiati neppure per un secondo e con passione e maestria hanno realizzato la loro opera in muratura, mettendo in luce le abilità e le competenze sia dal punto di vista tecnico che della sicurezza. La manifestazione, nata nel 2008 per volontà delle parti sociali dell'edilizia, è stata anche l'occasione quest'anno per promuovere il sistema bilaterale edile della formazione e della sicurezza, nonché l'intero settore delle costruzioni.